Il miracolo invernale Il 16 dicembre del 1631 San Gennaro riuscì a fermare una spaventosa eruzione del Vesuvio che nel giro di 48 ore costò la vita a più di 4.000 persone. Da allora in questa giornata si celebra il miracolo d'inverno con la liquefazione del sangue. Ogni volta o quasi che il sangue di San Gennaro è rimasto solido sono avvenute sciagure in città. Ad esempio nel settembre del 39 è scoppiata la seconda guerra mondiale. Nel 1973 quando c'è stata l'epidemia di colera mentre nel 1980 il drammatico terremoto di Irpinia. Alle 12 la teca è stata riportata nella Cappella del Tesoro e sarà nuovamente ripresa alle 16.30. Alle 18.30 sarà celebrata un'altra missa alla presenza dell'Arcivescovo di Napoli, Cardinale Crescenzio Sepe, durante la quale i fedeli sperano che sia dato l'annuncio e l'avvenuto miracolo. Poche le persone presenti nel Duomo nel rispetto alle misure anti-Covid. Negli ultimi due anni il miracolo di San Gennaro del 16 dicembre è però avvenuto solo nel tardo pomeriggio. C'è quindi ancora speranza per un prodigio di cui i fedeli hanno bisogno, oggi più che mai, in un periodo così difficile per la città e per il mondo. Grazie.